la champions passa da bergamo la champions passa da bergamo c'è poco da dire bisogna vincerle tutte bisogna vincere a bergamo oggi ti sei giocato l'ultimo diciamo l'ultimo bonus l'ultimo jolly che avevi l'hai sprecato perché oggi l'hai sprecato perché secondo me si poteva vincere questa partita perché la juventus è una squadra che ormai non ha neanche più quel mordente si è vero deve blindare la champions però è una squadra che negli ultimi mesi ha regalato punti a destra manca oggi hai fatto un pareggio giusto perché potevi tranquillamente anche perderla quindi ci sta il pareggio ma hai proprio secondo me regalato la partita dopo l'1 a 0 perché dopo l'1 a 0 hai smesso di attaccare smesso di essere propositivo hai concesso campo poi la partita nel secondo tempo è stata una corrida è stato quasi il far west occasioni da entrambe le parti però oggi comunque ti sei giocato appunto l'ultimo bonus che ti restava se avevi un bonus da giocarti eventualmente contro juve empoli o genoa dando per scontato che per la champions devi vincere a bergamo perché da là non si scappa salvo clamorosi disastri dell'atalanta altrove dando quindi per scontato che devi vincere a bergamo potevi avere un pareggio un bonus appunto contro juve genoa o empoli e vi ricordo che l'empoli si gioca al castellani all'ultima giornata contro nicola che se sta ancora lì lì per salvarsi sappiamo tutti come finirà te lo sei giocato oggi e ragazzi questo è la champions è troppo troppo importante quest'anno per avere un minimo di progettualità la champions in una squadra come la roma che quindi si deve quasi autofinanziare è fondamentale sono cinque anni cinque anni che la roma non gioca una partita di champions league sei anni che non ci qualifichiamo alla champions sei anni c'era ancora di francesco il primo anno di di francesco in mezzo ne sono passati e dopo di francesco ranieri fonseca murigno adesso dei rossi quindi tanto tempo tanto tempo e la champions in qualche modo va centrata con le buone o con le cattive bisogna entrarci in questa maledetta champions league bisogna entrarci oggi comunque una partita in cui la roma parte bene gioca secondo me una buona ventina di minuti fa il gol con lukaku gol giusto perché comunque pressing su pressing alla fine il gol lo fai però poi che succede poi ti abbassi poi ti abbassi la juventus prende campo la juventus anche lei il gol te lo fa con bremer che salta per primo e salta meglio di tutti gli altri meglio di christensen e meglio di jurente ti insacca il gollasso e comunque poi è un un botte risposta fra rome juve secondo me nel complesso la juventus fra le due ecco se devo dire una che magari meritava di più quella è la juve che anche fino al novantesimo con ken svilare poi miracoloso ci crede ma anche lucatelli pensa quella bella parata comunque la juventus il palo di chiesa la juventus specialmente poi nel secondo tempo le ha avute le occasioni la roma di meno la roma sicuramente di meno ottimo baldanzi devo dire per me migliore in campo baldanzi insieme a appunto a svilare che si è fatto trovare secondo me incolpevole sul gol per il resto bene bene male di bala io non so se di bala comunque questa partita qua la senta particolarmente però di bala oggi ha fatto un primo tempo negativo secondo me sotto il 6 sicuramente benissimo per la juventus chiesa che sembrava essere ritornato chiesa prime dell'europeo veramente infermabile oggi chiesa vero che christensen nonostante una partita più che onesta di christensen perché non chiedevo a christensen nulla di più di quanto ha fatto contro un chiesa così è difficile fare di meglio è difficile fare di meglio perché quando prendi un chiesa in giornata di grazia come oggi diventa ingiocabile infermabile però chiesa ha fatto veramente una signora partita secondo me ha giocato molto 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 bene non ci ha fatto capire niente malissimo vlaoic veramente un giocatore totalmente involuto a mio avviso un giocatore che non ne azzecca più una perché anche sottoporta anche quella palla quella puntata che ha messo chiesa in mezzo che ha sfilato no proprio che è sfilata per tutta l'area lì un centravanti il piede ce lo mette ma soprattutto lì un centravanti c'è ci deve essere invece vlaoic non c'è così come in tante altre occasioni così come dopo 5 minuti quel tiro sul sinistro che ha lo sbaglia malissimo comunque vlaoic è un calciatore che per carità è vero magari non sarà valorizzato appieno da allegri e dal suo gioco però è anche vero che che quando alle palle gol non le sfrutta mai e quando dovrebbe essere lì quando un 9 dovrebbe essere lì non c'è mai quindi sì vero allegri ha delle responsabilità però è anche vero che comunque vlaoic il suo secondo me non ce lo mette non ce lo mette da tanto 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 tempo la juventus comunque nonostante oggi abbia fatto vi ripeto una prestazione buona e abbia meritato ampiamente il pareggio è una squadra che era ed è tuttora in crisi e quindi secondo me era un'opportunità da sfruttare oggi comunque la partita andava vinta la cosa fondamentale proprio fondamentale era non perdere perché se tu avessi perso la champions quasi quasi l'abbandonavi pareggiando rimani padrone del tuo destino che è una cosa molto importante certo è un destino complicato è un destino difficile è un destino che passa vi ripeto da bergamo è un destino che passa dalle vittorie quindi con l'Atalanta con Genoa e con con l'Empoli è un destino che comunque ti vedrà coinvolto giovedì sera in germania all'Everkusen in una partita che io vi ripeto sì ragazzi è bruttissimo è anti idealista è anti sogno è anti tutto però vista l'importanza della champions per una squadra come la roma io all'Everkusen ci andrei con le seconde linee facendo un po' di turnover per esempio di bala ecco di bala io non lo metterei non lo metterei sfrutterei tutte quante le energie dei big soprattutto di quelli che comunque non hanno non possono giocare oggi giovedì e rigiocare domenica le terrei per domenica perché comunque con l'Atalanta è fondamentale un pareggio non ti basta un pareggio a bergamo non ti basta perché poi se l'Atalanta ti fa quei punti che ti dovrebbe fare non ce la fai non ce la fai comunque devi sperare in qualche allineamento terrestre per farti andare in champions magari anche da sesto quindi io personalmente risparmierei più energie possibili all'Everkusen anche se è brutto però avete visto anche oggi c'è Alonso cioè con le seconde linee sono andati a francoforte contro la sesta in classifica non parliamo contro una squadra di serie b con le seconde linee non avendo più stimoli per il campionato avendo già vinto tutto quello che si poteva vincere in germania comunque in mondesliga da imbattuti e tutto quanto pensando anche logicamente a giovedì perché come ci pensiamo noi ci pensano anche loro anche di più perché vi ripeto in campionato non hanno più obiettivi quindi se ne sbattono noi invece giochiamo su due tavoli per così dire ecco vanno in germania a francoforte contro l'eintracht che resta una signora squadra e ne fanno cinque ne fanno cinque vincono cinque a uno una squadra senza obiettivi col pensiero a giovedì con la testa anche alla finale di coppa di germania che va francoforte ne fa cinque questi qua ragazzi sono ingiocabili quest'anno ingiocabili ovvio all'andata è giustissimo giocartela perché si può mettere bene ma vista come è andata l'andata scusate la ripetizione io non penso francamente che ce la si possa fare per un ritorno clamoroso per un 3 a 0 sinceramente all'evercuse mi sembra un'ipotesi talmente irrealistica possibile certo possibile sì 5% di possibilità c'è ma talmente irrealistica da non compromettere poi la partita di bergamo soltanto per inseguire quel sogno poi verrò magari reputato come un vi ripeto magari uno che non merita neanche di fare roma io ne faccio proprio una questione di di benessere e di interesse della roma la roma deve andare in champions e se per andare in champions o per avere qualche possibilità in più di giocare contro contro l'atalanta avendo appunto più chance di fare tre punti bisogna sacrificare quelle possibilità di arrivare in finale di europa league ragazzi è bene che quelle possibilità comunque vengano sacrificate poi io io la penso così non so voi oggi però la partita che ve l'ho detta secondo me pareggio pareggio giusto in fin dei conti e adesso invito voi a scrivere qui sotto che cosa ne pensate la roma comunque si è rivelata una squadra stanca fisicamente a tratti anche disattenta mentalmente con dei blackout siamo cotti siamo cotti quindi speriamo per quello vi dico solo a una possiamo puntare io vi dico puntiamo su bergamo poi ragazzi io questo questo posso dirvi e invito voi a scrivere qui sotto la vostra opinione a lasciare tanti like e a farmi sapere anche comunque anzi farmi sapere ve l'ho detto e che cosa non mi ricordo che cosa ho detto comunque iscrivetevi like e commento qui sotto è molto facile ciao ragazzi e sempre forza roma ciao